Dal primo turno di elezioni amministrative, almeno in Lombardia, arriva un messaggio chiarissimo. Milano è ancora del sindaco Sala, che ha avuto un'enorme affermazione personale ed è saldamente in mano a un centrosinistra che ha nel PD la sua forza trainante, un PD che ha superato il 33% di consensi, addirittura triplicando i consensi di una Lega, che è rimasta l'11%, e che secondo Salvini doveva vedere nella partita di Milano il rilancio per la sua politica e attenzione al nord. La risposta dei cittadini milanesi è stata chiarissima, preferiamo Sala, preferiamo il PD e con loro vogliamo andare verso il futuro della città. Ed è un'indicazione che è arrivata anche in altri centri della Lombardia, anche a Varese, il candidato del centrosinistra, Davide Galimberti, sindaco uscente, è arrivato a un soffio dalla vittoria al primo turno e si presenta avanti rispetto al suo competitor al secondo turno che ci sarà tra due settimane. Certo, le grandi città hanno sempre sorriso al centrosinistra, anche in Lombardia. Diversa è la situazione nei piccoli comuni, dove il blocco di centrodestra, in particolare della Lega, dice ancora la sua e riesce ancora a conquistare parecchi consensi. Bisogna però stare attenti a non avere dei cortocircuiti, perché c'è chi dice da Milano partiamo per la riconquista della Lombardia, ed è vero perché questo è un primo passo fondamentale senza il quale non si può neanche pensare alle elezioni del 2023 per Regione Lombardia, ma bisogna anche stare attenti a non considerare Milano come paradigmatica di tutta la situazione lombarda. Benissimo risultato milanese, da cui Sala può ripartire per dare nuovo slancio alla città, ma bisogna tener conto che Milano non è la Lombardia e in tante zone, le valli, le aree interne e i comuni più piccoli, bisogna ancora ricostruire una credibilità del centrosinistra e soprattutto del PD, che in tante zone non è riuscito a presentarsi con propri candidati, si è un po' sciolto all'interno di liste civiche. Questo significa che bisogna ripartire con una forte impronta anche di azione del PD all'interno di tante aree della Lombardia che sono lontane da Milano. Quindi esultiamo e siamo molto soddisfatti per il risultato di Milano e di tanti altri comuni, però questo deve essere un primo passo per un cammino che è ancora lungo e che deve vedere il PD e il centrosinistra più allargato possibile, provare a dare delle risposte che convincano tutti i cittadini lombardi. È una sfida che parte dalla soddisfazione per l'esito di questo turno di elezioni amministrative, ma che è solo all'inizio. Quindi giochiamola nel migliore dei modi possibili.